Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere come costruirò il costume di Halalahala Ciao ragazzi, sono Dianantase D-I-P-S-I-L-N-A Ma potete chiamarmi anche Oggi vi farò vedere come costruirò il costume di Salva Vi servirà del filo Una visarmonica Delle forbici Della stoffa E un cuscino Twerkate Sventrate il cuscino Tagliate, tagliate, tagliate Salute Magia Cornuta Salute Ciao ragazzi, mi raccomando Se non siete ancora iscritti al canale Iscriviti Mettete un bel like Commentate e attivate le notifiche Ricordatevi che ogni venerdì prima del mese pubblicherò un video Disney Penso di essere allergico al pelo, 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 pelo Gli altri venerdì del mese pubblicherò altre creazioni che però non trattano dei personaggi Disney Quindi, se siete curiosi, seguitemi e scoprite che cosa pubblicherò la prossima settimana No Spero che i miei pantaloni del pigiama vi piacciano in tutto ciò No 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 Grazie a tutti